Buongiorno, buongiorno a tutti, sono Aldo Campo, il direttore commerciale del Fear System. Siamo alla fine dell'anno, sta per cominciare un 2023 e approfitto perché voglio fare un'analisi di quello che è accaduto in questi ultimi due anni e mezzo ormai. La pandemia, il lockdown, il lavoro da casa ci hanno messo nella condizione di aumentare una consapevolezza in tutti noi. Molte più persone a causa del lockdown e del lavoro da casa hanno compreso l'importanza di avere del tempo libero a disposizione per la famiglia e per i propri interessi personali. Non solo, nello stesso tempo è aumentata anche la consapevolezza e l'importanza della salute. della salute e soprattutto in prevenzione perché come abbiamo visto nessuno magari poteva immaginare questi due anni di difficoltà a causa di un virus. E a proposito di questo, in Fear System noi abbiamo la possibilità di accogliere persone che hanno desiderio di cambiamento delle proprie abitudini lavorative. E questo attraverso che cosa? Noi come azienda veramente siamo in grado di garantire a chi vuole fare questo cambiamento un percorso con un piano di formazione ben preciso e soprattutto con la possibilità di avere una garanzia economica che permette a chiunque voglia cambiare le proprie abitudini lavorative, di poter incominciare un'attività con una garanzia economica e soprattutto con la possibilità di avere molto più tempo per se stessi, molto più tempo per la propria famiglia e i propri interessi. E ora parliamo di dati performanti della Fear System. Il 2022 è stato un anno straordinario. Devo dire sia sotto l'aspetto di dati lavorativi abbiamo dato lavoro a diverse persone, almeno una ventina di persone del 2022, a tempo pieno hanno cambiato la loro vita lavorativa. Un aumento del 60% del fatturato rispetto al 2019, l'anno pre-pandemia. Un aumento del fatturato del 50% quasi rispetto al 2021, l'anno passato. dati che non solo ci rincuorano, ma ci fanno capire che la strada che abbiamo preso è quella giusta, è quella corretta, che potrà portare soddisfazione oltre che all'azienda a moltissime persone che hanno desiderio di questo cambiamento lavorativo di cui abbiamo parlato prima. Qual è il futuro? Ecco, siamo usciti per esempio con dei dispositivi in questo anno straordinario che vedrà poi la luce nel 2023 per lo sport, qualcosa di straordinario. Lo sport è questa cosa che ormai sta avvicinando tantissime persone, non solo lo sport performante dei professionisti, ma lo sport da fare per prevenire i problemi salutari e per stare meglio. Quindi sport, benessere, salute. E ora un piccolo accenno alle persone. Un grande augurio per un grande 2023 e per le vostre famiglie, per tutti voi. Per tutte le persone che lavorano in Fier System, dai nostri dipendenti ai nostri consulenti. A tutti voi possiamo solo augurare che ogni giorno del prossimo anno sia sempre il più bello rispetto al giorno passato. A tutti voi vi auguriamo veramente di trovare grandissime soddisfazioni e il cambiamento che volete per voi, per le vostre famiglie e per i vostri cari. E cosa mi rimane da dire? Aprite le porte alla salute. Insieme possiamo impegnarci per stare bene ogni giorno di più. Grazie e buon anno.